I deportati sono 2000, qualcuno come Francesco non è ebreo, ma a parte la diversa destinazione non fa gran differenza, c'è chi deve andare in Germania per morire e chi invece deve andarci per lavorare. Nel suo ultimo discorso Himmler ha detto soltanto le SS sono veri uomini, i tedeschi che non appartengono alle SS sono soltanto uomini, i non tedeschi di razza ariana sono quasi uomini, gli ebrei tedeschi o non tedeschi non sono neppure bestie. E allora che si vede? Olivi, olivi come in Calabria. E poi? E allora che si vede? Quello che non si capisce è che cosa vogliono da noi, dove ci porteranno? Queste sono capaci di fucilarci tutto quanto, ma che stupidaggine. Eh, in Grecia ne oveste fare tante di stupidaggini di questo genere dai tedeschi. Anche gli italiani però ne hanno fatte, eh? E' vero purtroppo, anche gli italiani. Secondo me alla prossima stazione ci fanno scende e ci mandano a casa. Sì, magari. A regola non potrebbero neanche tenerci prigionieri, il governo del sud si è alleato con gli inglesi e gli americani, ma noi a noi non abbiamo mica dichiarato guerra ai tedeschi. Scusi, ma allora perché ci trattano come dei nemici, eh? Beggio, come bestie. Lo sai come ha definito Rosenberg noi italiani? Aine negroidi ha un rasse aus Africa geburti. Una razza negroide di origine africana. No, 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 no. No, 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 no Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì.